Grazie a tutti. Marce su Roma, in certo senso, c'erano state. Silla, nel novembre dell'82 a.C., entra da Porta Collina nella città, ma entra nella città contro un governo la cui legittimità è contestata. Cesare, alquanto tempo dopo, il primo di gennaio del 49, è sull'orlo dell'invasione dell'Italia, punterà su Roma, ma quando arriva a Roma il Senato non è lì, è altrove. Invece la marcia sulla capitale, realizzata il 19 di agosto del 43 a.C., dal figlio adottivo di Cesare, da Ottaviano, è dal punto di vista morfologico una perfetta marcia sulla capitale. Perché lì c'è il governo legittimo, c'è il Senato, quindi è il vero colpo di Stato dal punto di vista tecnico e formale. La vicenda di cui parleremo, appunto questa che ho appena ora ricordato, l'ha raccontata il protagonista, medesimo, in un testo memorabile che egli, con grande preparazione scenografica, fece divulgare. Leggiamone, per l'appunto, le righe che riguardano l'evento di cui stiamo parlando. All'età di 19 anni, di mia iniziativa e a mie spese, misi insieme un esercito grazie al quale liberai la Repubblica dal dominio della fazione. Per ricompensarmi il Senato, con decreti che mi rendono onore, mi cooptò nel suo ordine, attribuendomi addirittura il diritto di parlare quando tocca a chi è già stato console. E inoltre mi riconobbe il comando militare. Questi decreti risalgono al Consolato di Irzio e Pansa, 43 a.C. Il Senato, inoltre, mi ordinò di provvedere all'emergenza in cui si trovava la Repubblica, collaborando con i consoli in carica e attribuendomi il rango di proprietore. Nello stesso anno, essendo caduti in guerra entrambi i consoli, il popolo mi elesse a tale carica, console appunto, nonché triunviro per la riforma dello Stato. Questa presentazione dei fatti richiede qualche schiarimento. Innanzitutto, quando, perché e con quali modalità, Augusto ha diffuso, ha fatto diffondere queste parole. Queste parole sono l'inizio, molto noto, dell'opera sua postrema, elaborata nel tempo, l'index rerum ase gestarum, l'elenco delle sue gesta. Augusto è stato un grande costruttore della propria immagine, un grandissimo calcolatore, un politico lungimirante. Le parole che abbiamo letto noi le leggiamo perché si trovano su di un epigrafe, su di una lastra, conservatasi fortunosamente in un punto un po' lontano da Roma, in Turchia. In realtà si trattava di un testo che egli aveva scritto, affidato come giusto ad un rotolo, ed era parte di un lascito complesso. Il suo testamento, col quale designava erede per la metà più un sesto, Tiberio, per l'altra parte Livia, sua moglie, Tiberio nel frattempo divenuto figlio adottivo. E poi tre rotoli. Nel primo c'erano le disposizioni sui funerali, sulle sue esequie. Nel secondo c'erano per l'appunto le res geste, l'elenco delle sue gesta, delle sue imprese. E nel terzo delle indicazioni di carattere economico, una sorta di breviario sullo stato di salute dell'impero economico e militare. Augusto muore il 19 agosto, c'è una sorta di armonia in queste date, dell'anno 14 d.C. non aveva una salute di ferro, aveva rischiato di morire anche in altre circostanze. Nel 24 a.C. era stato davvero in grave pericolo di salute, dopo le durissime campagne in Ispagna. Poi si era ripreso e morto a Nola. Il suo trasporto è stato particolarmente scenografico. Druso, figlio di Tiberio, ha il compito di leggere davanti al Senato il contenuto di quei tre rotoli, fra cui le res geste. Come incominciano queste res geste, scritte, ripeto, e divulgate ormai quando Augusto è morto? Incominciano con una difesa aspra, intimidatoria, dell'inizio stesso della sua carriera intessuta di illegalità. All'età di 19 anni, di mia iniziativa e a mie spese, misi insieme un esercito. Non c'è niente di più eversivo rispetto alla legalità repubblicana di arruolare a proprie spese legioni, truppe, soldati, grazie ai quali liberai la Repubblica dal dominio della fazione. Cosa vorrà dire? Questo testo è conservato in latino e in greco. È mirabile. Io credo che egli abbia controllato parola per parola sia la parte latina che la greca. Davanti al Senato fu letta in latino, nelle province orientali era più comprensibile il greco. Nel testo latino si dice Ho liberato la Repubblica dal dominio della fazione, la fazio. Parola tremenda nel linguaggio politico romano. Parola impegnativa, allusiva, usata quando i destinatari sanno che vuol dire. Nel testo greco c'è scritto un'altra cosa. Ho liberato la Repubblica dal dominio dei congiurati. I congiurati sono coloro che hanno ucciso Cesare. Due concetti diversi? Tutti gli interpreti sono convinti, io con loro, che la parola fazio in latino nasconda un riferimento preciso ad una persona sola. Marco Antonio. L'erede politico di Cesare. O meglio colui che tutti pensavano fosse l'erede politico di Cesare. Dunque ai sudditi orientali dell'impero si destina un riferimento ovvio. ha liberato la Repubblica dal predominio temporaneo di coloro che avevano ucciso Cesare il 15 marzo del 44. E perché lo destina al pubblico delle città, delle comunità dell'Oriente parlante greco? Perché lì i cesaricidi avevano avuto un grande successo. Talora ottenuto con la forza, talora con il consenso. La loro base, per così dire, operativa era stata lì. e quindi additarli come coloro dai quali liberare la Repubblica aveva più senso. Al Senato, dinanzi al quale viene letto il testo latino, viene ricordato che il nemico era stato Antonio. Abbiamo in certo senso la controprova di questo. Augusto aveva scritto una sua autobiografia, che ha avuto una certa vitalità per molto tempo, ancora nel secondo secolo dopo Cristo, a piano di Alessandria. La leggeva. Noi purtroppo non più. Sarà stato un testo micidiale dal punto di vista della cattiveria, della puntigliosità con cui ogni avversario veniva sistemato. Però noi sappiamo che ha influenzato la storiografia da lui controllata molto da presso. Si potrebbe dire il vero creatore della censura sulla storiografia. Uno storico che è vissuto al termine del governo di Augusto e all'inizio di quello di Tiberio, che si chiamava Velleio, di cui abbiamo un breviario, un breve racconto della storia di Roma, ma quasi alla lettera riprende le parole che ora abbiamo letto nelle res geste e dice che la Repubblica giaceva oppressa sotto il dominio di Marco Antonio. Ma Ottaviano, appena 19enne, a proprie spese, rarruolò delle truppe. Quindi la interpretazione di quelle righe, fornitaci da uno storico di corte, potremmo dire, come Velleio, che dobbiamo considerare certamente quella autentica, ci porta a quella identificazione, la faccio e Antonio. Il secondo capoverso di quelli che io vi ho letti riguarda la tappa immediatamente successiva di questa vicenda, e cioè l'assunzione di poteri straordinari da parte di Ottaviano, diciannovenne, eversore, l'assunzione di poteri straordinari con la complicità e il consenso del Senato. Il ruolo che gli viene attribuito all'interno del Senato, nel quale viene cooptato, di parlare quando tocca gli ex consoli, quindi un ruolo particolarmente onorifico. L'imperium, quindi la legittimazione delle truppe che egli ha arruolato, e addirittura il rango di proprietore, come se egli avesse già ricoperto l'apretura, che a 19 anni certamente non poteva aver ricoperto, per affiancarlo, porlo accanto ai consoli, in carica nelle operazioni militari. Vedremo quali queste operazioni militari siano state. Il quadro che vi ho delineato con questa breve lettura commentata dei righi iniziali e minacciosi delle resgeste è quello del dopo-idi di marzo, quell'anno quasi esattamente un anno solare che va dalla liquidazione fisica proditoria di Cesare da parte dei congiurati liberatori della Repubblica e la battaglia sotto la città di Modena, combattuta dalle truppe regolari della Repubblica, comandate dai consoli Irzio e Panza, affiancati dal giovanissimo avventuriero, ma ormai proprietore. Questa battaglia avviene per l'appunto il 21 di aprile del 43, quindi c'è un anno ed è un anno nel quale Ottaviano costruisce nella illegalità coperta dall'appoggio di una parte del Senato la sua carriera. Per comprendere la situazione di quei mesi facciamo un velocissimo passo indietro che ci riporta, per così dire, al giorno dopo del cesaricidio. Noi abbiamo tanti documenti per questi anni, tanti documenti per un colpo di fortuna, si potrebbe dire, quello legato alla pubblicazione postuma della corrispondenza di Cicerone. statista, il vecchio statista, il console dell'anno 63, colui che ha sventato la congiura catilinaria, episodio sul quale, credo, persino l'attuale ordinamento scolastico diffonda informazioni abbastanza dettagliate. Il nostro, il gruppo dei congiurati diceva qualche d'uno hanno avuto un fegato d'acciaio, un cervello infantile nella loro azione, il nucleo dei congiurati perde la partita in pochissimi giorni. Nel, quel contenitore di documenti che è la corrispondenza di Cicerone pubblicata dopo la morte di lui e certamente a suo danno, in quel vivaglio di carte preziose, riservate e personali, c'è una serie, come dicevo, poc'anzi di documenti. Lettere di altri a lui, quelle pochissime lettere di Giulio Cesare che noi abbiamo si trovano lì dentro come copie accluse alla corrispondenza fra Cicerone e Attico. Bene, una di queste lettere preziosissima è scritta il giorno dopo l'Eidi di marzo ed è di Decimo Bruto, un nome da ricordare in questa vicenda che racconteremo, indirizzata ai due leader della congiura, Marco Giunio Bruto e Cassio. Questa lettera è una lettera drammatica, si trova nell'inizio del libro 11 delle cosiddette familiari. Dice Decimo Bruto in che condizione ci troviamo vi è ben noto. Ieri sera venne da me Irzio, Irzio sarà console a partire dal 1 gennaio del 43, qui siamo ancora il 16 marzo del 44. Mi ha fatto capire l'atteggiamento di Antonio nei nostri confronti. Mi chiedo se non dobbiamo abbandonare la città. Abbiamo forse un appoggio in Siria, forse in Spagna. In Spagna c'è i figli di Pompeo, in Siria c'è un ribelle che sta combattendo contro i generali cesariani. È una lettera disperata all'indomani del successo che pareva definitivo di avere tolto dalla scena il dittatore. In questo clima è stato aperto il testamento di Cesare. Il testamento di Cesare rivela che c'è un erede familiare, un figlio adottivo, nella quasi totalità. Nei testamenti, come abbiamo detto prima, c'è una capacità da parte della mentalità romana, questo è perfettamente logico, una sorta di dosaggio, no? Tiberio è erede di Augusto per la metà più un sesto. Ottaviano è erede quasi universale. Egli ha un patrigno, suo padre Caio Ottavio era morto, e una madre saggia, sedula, che cura questo fanciullo e la sua carriera lo ha mandato presso Cesare quando Cesare era impegnato in Spagna, una cosa inaudita, era poco più che un adolescente. Nel momento in cui il testamento viene aperto si apprende che l'erede del dittatore ucciso è questo fanciullo, questo giovanotto nato durante il consolato di Cicerone nel 63 avanti Cristo, quindi nel 44 c'ha 19 anni per l'appunto, si apprende che è lui personaggio al quale tocca di continuare non è chiaro se l'opera politica certamente di continuare Cesare. La storiografia in merito è ovviamente divisa e noi abbiamo l'ho detto prima un autore come Velleio che ci accompagna nella lettura di questi fatti quasi come un bollettino propagandistico che dice la verità ufficiale il modo in cui rappresenta il comportamento di Ottaviano questo Velleio è quasi comico nel senso che esagera in dedizione ma è molto interessante come sempre la propaganda la propaganda è importantissima basta non crederci e addirittura viene rappresentata come una sorta di predestinazione lui sa già diciannovenne che sulle sue spalle ci sono i destini di Roma i destini politici di Roma ha una missione altre fonti meno dedite dicono altro parlano in termini abbastanza realistici delle paure delle contraddizioni delle esitazioni invece nel racconto Velleiano tutto procede teleologicamente verso un obiettivo che è quello previsto che è quello che post eventum è considerato l'unico possibile Ottaviano che mette piede in Italia compie per l'appunto in breve dopo pochissimi contatti quelle illegalità che con tanta tracotanza rivendica di aver fatto in punto di morte nelle righe che ho letto in principio gli vengono incontro gruppi di militari di veterani ed egli comincia a costituire una sorta di esercito privato nel frattempo l'equilibrio politico si è decisamente capovolto a favore della parte cesariana racconto cose assai note ma è giusto rievocarle in breve rifulge in quel momento torna sulla scena in primo piano il vecchio statista di cicerone si è detto tutto il male possibile come voi ben sapete in certo senso è uno dei bersagli del perbenismo politico che il fatto che io abbia un debole per cicerone forse è un difetto ma lo rendo così amabilmente noto lo consideriamo con un occhio particolarmente critico perché abbiamo la sua corrispondenza che in certo senso ce lo svela anche in quello che nessuno di noi amerebbe svelare e invece credo sia giusto rivendicare la sua statura di politico nel momento in cui i funerali di cesare hanno reso i cesaricidi in sostanza degli assassini e hanno ridato ad Antonio la centralità nella scena politica il colpo di genio di cicerone è quello di lanciare la proposta che in senato ottiene successo della amnistia l'amnistia è una parola greca che si richiama alla guerra civile ateniese del 403 avanti cristo cicerone come tutti i colti romani aveva un'ottima conoscenza di quei fatti l'amnistia consiste in un patteggiamento politicamente redditizio per chi sta perdendo la partita riconoscimento degli atti di cesare quindi il tiranno che è stato ammazzato lascia un'opera politica che viene legittimata e in compenso immunità per gli assassini questo è il compromesso che cicerone ottiene ma è un compromesso in cui la vittoria politica spetta sostanzialmente alla parte cesariana e ad Antonio Antonio che è console era collega di Cesare subentra un signore che si chiamava Dolabella console quindi al posto del defunto Cesare era un ex genero di Cicerone e in questa situazione l'elemento estraneo il corpo estraneo la novità è per l'appunto questo adolescente la partita dovrebbe giocarsi in sostanza tra Antonio saldamente al potere fra l'altro perché console e i cesaricidi politicamente sconfitti desiderosi quasi di avere una legazio libera andar via dall'Italia salvarsi la vita e basta e invece c'è questo giovane questo rampollo di palma come è stato definito da una fonte particolarmente dedita e servile il quale fa un suo gioco qual è questo gioco? l'ambiguità straordinaria e l'abilità straordinaria dispiegate in quell'occasione da Ottaviano restano un punto alto nella storia della politica direi della politica mondiale della politica in assoluto la fedeltà dei veterani si fonda sulla sua dedizione al padre ucciso quindi nulla di più cesariano di questa scelta la dedizione al senato in quanto organo della legalità e quindi la contrapposizione ad Antonio sono l'altra faccia assolutamente contraddittoria della scelta che gli compi in quel momento comincia una partita complicata ribadisco Antonio è console e lo sarà fino alla fine dell'anno solare i successori già designati sono consoli per l'anno 43 per l'appunto Irzio e Panza Irzio è un fedele cesariano è in atto un conflitto latente fra una parte del senato capeggiata da Cicerone e Antonio e un conflitto aperto fra Antonio e il giovanissimo Ottaviano senza esclusione di colpi esiste un testo bellissimo purtroppo per noi solo parzialmente conservato la vita di Augusto scritta da un greco un cliente di Erode il Grande questo greco si chiamava Nicola ed era nato a Damasco e quindi è noto come Nicola Damasceno questo testo ci è conservato parzialmente ma la parte conservatasi è per nostra fortuna giusto appunto quella che riguarda quei mesi un episodio che campeggia in quel racconto è misteriosissimo non sapremo mai la verità su quell'episodio abbiamo la versione di Nicola Damasceno che era un fedelissimo di Augusto l'attentato contro Antonio cominciano a profilarsi avvenimenti inquietanti che hanno a che fare con l'eliminazione fisica degli avversari politici in cui Antonio in certo senso rischia di essere la vittima e Ottaviano è il protagonista il racconto è divertente ma forse è solo in parte giusto che io ve lo rievochi ed è come dire una sceneggiata quasi teatrale Antonio dichiara di essere stato vittima di un tentativo di assassino da parte di Ottaviano interrompe i rapporti con quest'uomo cerca in sostanza di liquidarlo prendendo spunto da questo tentativo se mai c'è stato di liquidazione violenta della sua persona Ottaviano fa la parte della persona angelica di colui che continua a cercare il contatto con questo avversario perché non può immaginare nemmeno che si sia sospettato di lui come attentatore la cosa che colpisce in questo racconto di Nicola Damasceno è che Ottaviano sa tutto quello che si dice nell'entourage di Antonio Ottaviano che capeggia delle truppe sostanzialmente illegali per le quali sta per ottenere un riconoscimento da parte del Senato ha una infiltrazione in casa dell'avversario che induce alcuni moderni a pensare che Cicerone non abbia tutti i torti quando in una lettera dice che è quasi convinto che davvero Ottaviano stava per regalarci la liberazione da Antonio Cicerone era sempre stato del parere che il 15 di marzo del 44 bisognasse ammazzare tutti e due cioè non solo Cesare ma anche Antonio ci sono dei sanguinari anche tra le persone più moderate politicamente e crede di poter dire lo dice in una lettera privata questo è in certo senso anche garanzia della fondatezza dell'informazione che Ottaviano sul serio avesse tentato questa via compendiaria per semplificare lo scenario politico ecco perché Cicerone entra nella persuasione di avere in Ottaviano una pedina ne parla in una lettera in modo che a noi sembra comico perché sappiamo come sono andate a finire le cose nel momento in cui egli scriveva non era certamente così è una lettera dell'anno 44 del mese di maggio fine maggio ed è come al solito tra le più sincere quelle che lui scrive ad Attico suo amico o meglio da lui reputato tale in Ottaviano come ho potuto riconoscere c'è sufficiente intelligenza sufficiente coraggio sembra che verso i nostri eroi cioè i cesaricidi egli si disponga nel modo che vogliamo noi ma quale credito si debba accordare alla sua età al nome che porta all'eredità di cui ha beneficiato all'educazione che ha ricevuto questo è un problema che richiede ponderata riflessione il patrigno questo personaggio di terzo ordine che si chiamava Filippo non esprime nessun parere in proposito io l'ho visto il giovane merita di essere sostenuto e se non altro separato da Antonio questo brano ripeto ci dà una impressione di involontaria comicità perché si parla di Ottaviano come di un personaggio manovrabile certo ha sulle spalle questo peso di un'eredità ingombrante di un dittatore secrando però è ben disposto verso i cesaricidi niente di più erroneo la visione che Cicerone ha è evidentemente dovuta a quello che Ottaviano gli dice ed è capace di recitare con Antonio con Cicerone la parte di colui che è convinto di dovere rispetto ai cesaricidi mentre ai suoi fedelissimi veterani dice che il suo unico compito è vendicare suo padre il capoverso seguente delle resigeste dopo quelli che vi ho letto dice con processi legittimi ho liquidato tutti coloro che avevano ucciso mio padre e la forza in certo senso politica e personale di tutta la sua azione ha come perno la vendetta dell'assassinio di suo padre quindi Cicerone davvero ha una prospettiva totalmente erronea quando parla in quei termini di quest'uomo e quando ne parla in pubblico nella quinta filippica esagera probabilmente conosco ogni sentimento di questo adolescente non vi è nulla a lui di più caro della Repubblica nulla di più caro della vostra auctoritas in sostanza lo rappresenta come l'uomo del Senato ma perché Ottaviano ha scelto questa parte per avere peso nel partito cesariano egli deve contrapporsi ad Antonio il suo cinismo la sua abilità consiste nell'accettare di far parte dell'esercito che va a combattere Antonio nella Gallia Cisalpina perché Antonio uscito di carica pretende la Gallia come provincia a seguito di una permutatio provinciarum gli toccava la Macedonia ha voluto la Gallia che è la provincia che incombe sull'Italia il Senato a questo punto lo dichiara nemico pubblico affida ai nuovi consoli Irzio e Panza il compito di combatterlo decimo brutto è in Gallia Cisalpina perché gli spettava quella provincia Antonio lo assedia nella città di Modena gli eserciti della Repubblica devono liberare decimo brutto e sconfiggere Antonio che diventato da console il 31 dicembre a nemico pubblico il primo gennaio del 43 si trova improvvisamente dalla parte della illegalità Ottaviano come proprietore è accanto ai consoli con le sue truppe c'è qualche attrito non tutto può andare in maniera così lineare l'attrito è nel momento in cui Irzio pretende il comando anche delle truppe di Ottaviano Ottaviano è come proprietore con le sue legioni ma queste legioni devono passare agli ordini del console Irzio e Panza suo collega perché per ovvie ragioni i consoli sono i capi supremi dell'esercito il potere dei console è un potere enorme a Roma quando Livio racconta il passaggio dalla monarchia alla repubblica è uno dei passi più celebri dei suoi libri iniziali dice che in fondo il potere monarchico continuò con i consoli solo che fu limitato nel tempo alla durata di un anno e diviso tra due persone che tendenzialmente ex ipotesi dovevano controllarsi tra loro il potere monarchico il potere dei consoli è enorme ecco perché il proprietore Ottaviano con le sue truppe deve passare agli ordini come dire perde molto della sua forza effettiva donde l'attrito noi non abbiamo purtroppo le lettere che Ottaviano scriveva ma abbiamo dei frammenti sono citazioni spesso i grammatici hanno questa funzione inconsapevole di trascrivere una frase perché c'è una parola rara però quella frase è importante per il suo contenuto e noi la possiamo leggere e comprendere e c'è una frase conservataci da questo grammatico che si chiama Nonio in cui Ottaviano dolendo se ne racconta Cicerone quasi suo consigliere padre spirituale lo chiamava pater ogni tanto nelle sue lettere nella sua ipocrisia e dice tu sai quanto mi ha fatto penare Irzio quando ha preteso le mie truppe ma io ho piegato il capo perciò dicevo non mancano degli attriti in questa vicenda che diventa rapidamente una vicenda militare c'è un assedio c'è una città Modena il cui governatore governatore della Cisalpina decimo brutto è assediato da un bandito cioè da un uomo che è stato dichiarato nemico pubblico Antonio gli eserciti della Repubblica devono liberare decimo e sconfiggere Antonio ma Antonio è il leader riconosciuto per tantissimi veterani e non veterani per le legioni per una parte del Senato non piccola della parte cesariana e quindi a un certo momento per rompere per così dire questo sortilegio in cui è stato incastrato dalla scelta di Ottaviano di schierarsi addirittura con i cesaricidi scrive una lettera molto bella molto impegnativa che ci è anch'essa conservata questo racconto che vi sto facendo come vedete è in tessuto di carte che fortunosamente noi abbiamo questa lettera di Antonio è l'unica lettera di Antonio che ci sia conservata è un manifesto politico di enorme rilievo ci è giunta per una ragione curiosa che cioè Cicerone ne ha ricevuto una coppia la lettera è indirizzata a Irzio e a Ottaviano e si capisce perché perché sono i due che stanno combattendo Antonio sotto le mura di Modena Antonio vuole una riconciliazione vuole spezzare questo assurdo per cui due pezzi del partito cesareano si combattono tra loro per salvare il cesaricida più odiato Ottaviano ha mandato una coppia di questa lettera a Cicerone Cicerone la legge in senato e la commenta quindi è un caso straordinario dal punto di vista dei patiti della storia dei testi diciamo così perché noi abbiamo una lettera di Antonio col commento di Cicerone dentro la filippica tredicesima legge una frase e aggiunge la sua chiosa la frase iniziale per esempio è molto dura è una frase in cui Antonio gioisce del fatto che in Asia è stato ammazzato già uno dei cesaricidi un tale che si chiamava Trebonio e lo ha fatto fuori Dolabella che Cicerone ormai detesta la lettera comincia così quando ho saputo della morte di Gaio Trebonio la mia gioia non è stata maggiore del dolore che un delinquente abbia pagato il fio alle ceneri e ai resti di quel grande Cesare e che prima ancora che l'anno finisca la volontà degli dèi si sia manifestata con la punizione del parricidio e ben presto questo toccherà anche agli altri è cosa che non può che rallegrarmi qui subentra il commento di Cicerone Spartaco che è peggio di Catilina questo è molto sintomatico che ancora trent'anni dopo la crocifissione degli spartachiani e l'uccisione di Spartaco 73 avanti Cristo Cicerone in Senato dicesse lui che aveva sconfitto Catilina nemico pubblico Spartaco peggio di Catilina ma per i padroni di schiavi il vero nemico non è né Antonio né Stefano sono gli schiavi il commento continua e per fortuna segue passo passo la lettera questa lettera come dicevo poc'anzi ha un enorme rilevo politico perché Antonio che è un uomo di notevoli capacità chiama ad un rendiconto ad un redderazione i suoi interlocutori e dice in sostanza voi state facendo il gioco di un partito che non esisteva più quello di Pompeo state facendo quello che neanche i figli di Pompeo sono oggi in grado di fare sì fanno i banditi in Spagna ruolano truppe irregolari in una zona dove Roma ha sempre qualche problema a controllare davvero il territorio ma voi state violando la consegna che le vostre truppe vi hanno dato le avete portate qui a Modena dicendo che venivate a punire i cesaricidi una lettera preziosa e anche dura avete sotto i vostri occhi nel vostro accampamento quel servio galba che ha ancora addosso il pugnale con cui ha ammazzato Cesare questo detto da Antonio a Irzio fedelissimo di Cesare a Ottaviano figlio di Cesare è una stilettata formidabile avete attirato i soldati miei i veterani facendogli credere che si andava a punire gli uccisori di Cesare e contro ogni aspettativa ora li fate marciare contro di me e alla fine della lettera chiede una conciliazione è vero mi fate sapere che il senato manderà cinque vecchi consolari a tentare una composizione vengano li ascolterò ma noi dobbiamo ricomporre le partes il partito questa lettera rimane senza effetti il galba di cui lui fa il nome uno dei più odiati tra i cesaricidi e anche autore di un resoconto ancora una volta un testo arrivatoci dentro quell'enorme contenitore che sono le lettere ciceroniane un resoconto della prima delle due battaglie decisive sotto Modena la battaglia di Forum Gallorum Castelfranco Emilia oggi e un resoconto drammatico di questa vicenda di come all'improvviso le truppe cesariane di Antonio e cesariane di Irzio e Ottaviano si sono affrontate tra le paludi con un massacro di uomini inaudito il dettaglio al di là del colorito straordinario di questa cronaca della battaglia il dettaglio che ci interessa però ai nostri fini è un altro e cioè Galba testimone oculare è raro che noi abbiamo il resoconto di un testimone oculare di una battaglia del mondo antico è rarissimo il dettaglio che ci interessa è che Galba dice Panza era presente se l'è cavata bene non parla affatto di un ferimento del console Panza la battaglia di Forum Gallorum precede di pochissimi giorni la battaglia decisiva quella in cui Antonio è sconfitto sotto Modena sotto le mura di Modena nel frattempo la battaglia di Forum Gallorum si svolge il 15 di aprile del 43 la notizia non può arrivare che lentamente come ovvio nelle comunicazioni in un mondo premoderno giunge al Senato il 20 di aprile il 21 Cicerone pronuncia la 14esima filippica celeberrima nella quale da un lato esulta per il massacro degli Antoniani c'è una sorta di sapore del sangue in questa esultanza per l'eccidio di Antoniani che è stato fatto nelle paludi di Forum Gallorum e dall'altro propone onori sterminati per i vincitori lasciando alquanto in ombra in realtà Ottaviano gli onori che vengono decretati che sono smisurati 50 giorni di ringraziamenti agli dèi ma neanche Cesare l'aveva chiesti per alcune delle sue campagne galliche fanno capire che Cicerone commette un lieve sbaglio in quel momento sempre alla luce della sua sottovalutazione di Ottaviano sì lo ha usato lo ha mandato lì intanto le truppe gli sono state tolte sono passate agli ordini di Irzio esaltiamo i vincitori Irzio innanzitutto Ottaviano incassa questo colpo il seguito della vicenda militare è quasi una prosecuzione della battaglia di Forum Gallorum Antonio non vuole accettare battaglia però Irzio ha un'intuizione era stato alla scuola di Cesare quindi sapeva cavarsela ha un'intuizione interessante cioè attaccare Modena dalla parte del fiume dove Antonio non aveva posto assedio alla città Antonio è costretto ad intervenire nuova battaglia 21 di aprile mentre Cicerone parla in senato si svolge la seconda battaglia quella appunto vulgo nota come di Modena nella mischia muore Irzio nel racconto di questa battaglia non abbiamo Galba in questo caso purtroppo abbiamo Velleio quindi cambia tutto abbiamo la storia raccontata in Usum Delfini e nel racconto Velleiano Ottaviano giganteggia giganteggia non solo come meriti militari che non ebbe ma soprattutto perché con rischio della persona si è anche lui gettato nella mischia per recuperare il cadavere di Irzio e riportarlo nel campo insomma era accanto a Irzio ma Irzio è morto a questo punto la situazione comincia a cambiare è uno scenario inedito Antonio Antonio sconfitto fugge decimo brutto libero finalmente non c'è più l'assedio di Modena esce dalla città assediata timoroso lui vorrebbe incontrare Ottaviano che è il figlio di colui che decimo ha tradito tutti ricordiamo la dinamica dell'attentato vedete come incombono le id di marzo su tutta questa storia la dinamica di quell'attentato forse il più celebre della storia è legata al fatto che decimo brutto aveva avuto il compito di andare al mattino come al solito a casa di Cesare e convincerlo ad andare in senato cosa che quel giorno magari Cesare non avrebbe fatto quindi dai fedeli cesariani è considerato il vero criminale Galba è quello che ha colpito per primo ma decimo brutto è quello che l'ha portato in senato ecco perché è la prima vittima diciamo così della resa dei conti con i cesaricidi quindi decimo brutto ha qualche problema a cercare di incontrare Ottaviano e dire siamo alleati il racconto di questo tentativo noi lo abbiamo in quello storico greco Alessandrino che tanto piaceva Marx che si chiama Appiano appunto di Alessandria chissà perché Marx diceva che era un uomo notevole perché un egiziano aveva simpatia per gli egiziani Appiano probabilmente ha avuto accesso lo si capisce da tante citazioni esplicite all'autobiografia di Augusto quindi i dettagli che lui ci fornisce decimo che manda a dire controvoglia io sono entrato nella congiura io non volevo ma Ottaviano lo respinge ricacciandolo indietro facendogli crollare lo scenario positivo che si stava delineando questi dettagli vengono certamente dall'autobiografia di Ottaviano chi altro poteva sapere che cosa decimo aveva tentato di dire a Ottaviano e cosa Ottaviano aveva risposto se non Ottaviano medesimo quindi la situazione dicevo ridiventa totalmente nuova e inedita decimo viene fuori e ha questa delusione cosciente Antonio fugge ma intanto si rende conto che non si potranno mettere d'accordo con decimo brutto e soprattutto è morto il console è morto Irzio ma è vivo Panza è vivo Panza l'altro è ferito non si sapeva che fosse stato ferito perlomeno non lo è stato nella battaglia di Forum Gallorum se dobbiamo tenerci al racconto di Galba che esplicitamente parla di Panza quindi non è un argomento cavato dal silenzio come si usa dire è un argomento esplicito qui ci sono due scene noi possiamo scegliere come spesso succede nel ricostruire i fatti storici due scene una è quella che leggiamo sempre nello storico alessandrino appiano e l'altra per caso ci è nota perché nel libro un decimo delle lettere familiari di Cicerone ci sono c'è un gruppo di lettere di decimo brutto importanti per noi perché sono le lettere che lui ha scritto nel dramma subito seguente alla fallimentare liberazione dall'assedio di Modena sono lettere che precedono di poco la sua morte lui sarà raggiunto da Sicari di Ottaviano è fatto fuori sono le lettere che scrive poco prima di finire la sua vita e sono lettere patetiche ci sono lettere in cui ringrazia Cicerone per gli onori che ha tributato a lui dopo la notizia che la battaglia di Modena è stata vinta ma ce n'è una particolarmente importante per noi è una lettera nella quale decimo brutto cerca di spiegare perché è fallita l'operazione che tutti ritenevano ovvia della ricomposizione tra gli eserciti che lo avevano liberato e le sue truppe lui dice il giorno dopo la mia liberazione da Modena fui chiamato in gran fretta da Bologna da Pansa Pansa mi ha mandato a chiamare mi sono immediatamente messo a cavallo correndo disperatamente verso di lui perché finalmente fallito l'incontro con Ottaviano ha un interlocutore sarebbe Pansa per l'appunto ero neanche a metà strada arriva un altro messo da Bologna che mi dice Pansa è morto torna indietro ecco perché dice decimo brutto a Cicerone non ho potuto collegarmi a lui non ho potuto ricomporre i due pezzi delle truppe che mi hanno liberato con le mie ma è la dinamica dei due messaggeri che ci deve interessare il messaggero numero uno è partito di grande carriera per convocare decimo decimo è immediatamente balzato sul suo cavallo per andarlo a rincontrare dopo poche ore non solo Pansa è morto cosa che teoricamente è sempre possibile ma c'è qualche d'uno che manda un altro messaggero e non certamente il morto ma un'altra persona che possiamo pensare facilmente essere Ottaviano il quale ordina a decimo brutto di tornare indietro insomma non solo Pansa è morto ma qualche d'uno ne ha cavato un grandissimo frutto quello di ancora una volta isolare e respingere decimo brutto che è la premessa poi per la ricomposizione con Antonio qual è il racconto che leggiamo in appiano è un racconto edificante ai limiti oserei dire del disgustoso perché è troppo oleografico è troppo falso Ottaviano mette in scena dico direttamente Ottaviano perché sono convinto che quelle pagine vengano dall'autobiografia di lui la seguente rappresentazione Pansa ferito ormai certo della fine giace su di un letto convoca Ottaviano gli indirizza gli pronuncia un discorso commoventissimo in cui gli dice abbiamo puntato su di te sin dall'inizio tu sei il vero erede di quell'uomo per il quale noi abbiamo sempre combattuto cioè Cesare guardati da Decimo Bruto guardati da questi cesaricidi tornati al potere un discorso che fa pugni con l'idea che Pansa ha mandato qualcuno a convocare Decimo Bruto io tendo a pensare che la versione di Decimo Bruto sia quella vera e che quest'altra sia una oleografica versione di comodo una riscrittura dei fatti ma c'è un dato se vogliamo che ci aiuta appena è morto Pansa viene arrestato il suo medico Glicone è un greco noi lo sappiamo perché c'è una lettera di Bruto di Marco Bruto non di Decimo Bruto Marco Bruto sta da un'altra parte sta al di là dell'Adriatico ma viene informato anche lui di quello che succede e Marco Bruto scrive a Cicerone infatti è tra le lettere sue a Cicerone che troviamo questo biglietto e dice ho saputo che hanno arrestato il medico di Pansa egli oltretutto è il marito di una donna che connessa una mia cliente eccetera c'è un rapporto di parentela o perlomeno di clientela fai di tutto per liberarlo perché lui non c'entra nulla nella morte di Pansa ma il medico di Pansa scompare ed è il terzo morto diciamo di questa catena Cornelio Tacito evochiamo una persona che sta un secolo dopo il quale ha vissuto il dispotismo in prima persona ha scritto parole tragiche sulla propria carriera nel famoso proemio alle storie in cui dice in fondo io debbo la mia carriera a Domiziano al Tiranno ha visto il dispotismo da vicino ne ha creato addirittura una raffigurazione emblematica utile per tanti altri dispotismi a cominciare dal meccanismo dell'autocensura che lui descrive magnificamente gli annali l'opera della sua vecchiezza potremmo dire si aprono con la morte di Augusto e col commento sulla sua persona come è giusto che faccia uno storico racconta cosa si diceva al momento della fine di quest'uomo noi abbiamo preso le mosse all'inizio come vi ricordate dalle parole che Druso figlio di Tiberio ha pronunciato davanti al Senato all'indomani della scomparsa ma non c'era solo Druso e non c'era solo la parte diciamo filo-augustea memorabili capitoli nove e dieci del libro uno degli annali sono un esempio insigne delle due verità su un fatto storico la prima parte è l'esaltazione dell'imperatore scomparso la seconda si apre con un celeberrimo dicebatur contra in contrasto con tutto quello che gli esaltatori dicevano si dicevano queste altre cose del grande scomparso una sorta di rapporto segreto per citare un testo celebre del 1956 cosa si diceva contra che l'amore per il padre e l'emergenza dello Stato erano serviti come pretesto che aveva per sete di dominio mobilitato con distribuzione di denaro i veterani e ancor giovane e semplice cittadino si era allestito un esercito aveva corrotto le legioni agli ordini del console simulato per simpatie per il partito pompeiano tolti di mezzo irzio e panza panza perché gli fu sparso veleno sulla ferita irzio ucciso dai suoi soldati per macchinazione dello stesso ottaviano questo dice batur naturalmente ma questa versione dei fatti noi la ritroviamo con altri dettagli nel capitolo che svetonio nella vita di augusto dedica questo episodio in sostanza si potrebbe dire noi siamo ovviamente prudenti dinanzi ad ogni ricostruzione che evochi scenari così drammatici però possiamo dire che quella lettera di decimo brutto con quello sconcertante episodio dei due messaggeri che si inseguono l'uno dopo l'altro ci spinge a considerare con estrema attenzione questa versione dei fatti la morte dei due è una fatalità Ovidio lo disse Ovidio dei Tristia quando parla della sua nascita dice io sono nato nell'anno in cui per un'analoga fatalità morirono tutte e due i consoli pari fato in latino è una parola micidiale perché vuol significare probabilmente che quello era un fato particolarmente accanito e polarizzato insomma la scomparsa di entrambi i consoli pone una questione sul tappeto ancora una volta totalmente nuova decimo brutto braccato dalle truppe di Ottaviano e braccato dalle truppe di Antonio sconfitto ma non scomparso dalla scena sul campo c'è solo il proprietore Ottaviano essendo proprietore e a livello più alto dal punto di vista dei comandi nella zona delle operazioni non c'è nessun console qui si apre una vicenda che ha del tragico ma anche del faceto Cicerone da un lato comincia a carezzare l'idea che potrebbe essere lui console insieme con Ottaviano un secondo consolato dopo quello del 63 vent'anni dopo dall'altra parte è bersagliato ferocemente dai suoi ancora una volta nell'epistolario esiste un gruppo di lettere come vi ho già detto a brutto o di brutto a lui o di brutto adattico in cui si parla di lui in particolare due la numero 16 e la numero 17 i moderni filologi che sono un pericolo sostanzialmente per la comprensione dei testi hanno subito sospettato che siano false inventate ci sono mille ragioni per pensare il contrario la ragione che viene adotta è che in una di esse Bruto durissimamente polemico con Cicerone perché ormai ha servito ad Ottaviano dice e poi si è spinto a chiamare Galba Sicario Sicarius dicono i benpensanti filologi Cicerone non l'avrebbe mai detto dovrebbero fare più politica i filologi perché capirebbero che Cicerone si è abbassato fino al punto di sparlare di Galba pur di mantenere un filo connettivo con Ottaviano nell'illusione di continuare a governarlo magari come collega nel consolato d'altronde la miseria della politica si vede anche nelle parole che Decimo Bruto cerca di dire ad Ottaviano mi hanno trascinato nella congiura io non volevo era il principale artefice in certo senso di essa o perlomeno realizzatore quindi questi argomenti per cui Cicerone non avrebbe mai potuto dire non hanno alcuna consistenza queste due lettere sono un tremendo atto di accusa di Bruto contro Cicerone hai voluto sottrarti alla tirannide di Cesare per cadere sotto quella di Ottaviano combatti Antonio perché preferisci un altro padrone rottura politica totale ma nel frattempo Ottaviano non è affatto del parere di condividere il consolato con Cicerone si fa sostenere dalle sue truppe nella richiesta di essere il console che magari deciderà chi sarà il suo collega e sarà suo cugino Pedio quando lui prenderà la decisione giusta in proposito la dinamica della marcia su Roma è una dinamica scontata come ho detto in principio è questa a rigore la vera marcia su Roma se Ronald Syme l'ha chiamata in quel modo in quel libro memorabile del 1939 pensando alla marcia su Roma musoliniana naturalmente lo ha fatto per una ragione che non è soltanto di sensibilità politica o di capacità di cogliere il presente nei suoi rapporti col passato ma anche per una ragione come ho detto in principio formale che cioè è la prima volta che un comando un comandante militare come Ottaviano porta le truppe per imporre la sua volontà al Senato che è nella sua sede agli organi governativi in carica non c'è una guerra civile col Senato c'è un Senato che viene coartato dalle truppe per questo il paragone che viene in mente a Saim è quello del re d'Italia che accoglie l'usurpatore e gli affida il ruolo di primo ministro 28 di ottobre del 1922 chiamarono truppe dall'Africa due legioni presidiarono il Gianicolo quando Ottaviano era alle porte di Roma queste legioni passarono dalla sua parte un gruppo di armati mandati da Ottaviano si spinse fino alla sede dove il Senato era riunito mostrando le armi queste lo faranno console Ottaviano entra in Senato un'estrema arma era stata ovviamente pensata ai suoi danni ricattarlo perché le sue donne come diceva Ottaviano la madre e la sorella erano a Roma ma Ottaviano le ha fatte nascondere presso le vestali alle quali i vestali aveva poi dato anche quei tre rotoli che furono letti quando egli è morto entra in Senato c'è una fila lunghissima di senatori che l'uno dopo l'altro gli stringono la mano in coda c'è Cicerone reso conto di Appiano quindi reso conto di Ottaviano Medesimo Cicerone gli si avvicina e dice ma io avevo proposto di farti console e lui risponde sei l'ultimo dei miei amici giocando sulla parola ultimo che vuol dire anche postremo non soltanto il solo superstite ma la storia finisce tragicamente e su questo io credo concludiamo il patto che ricompone l'unità della parte cesariana il cosiddetto triunvirato viene stretto di lì a poco Antonio ritorna in una posizione egemone direttiva ma Ottaviano ha ormai come si dice una paridignità politica rispetto a lui tutta quella vicenda che ha cinicamente percorso Cicerone Pater la liberazione di decimo brutto da Modena è stato lo strumento per assumere questo ruolo questa forza di contrattazione rispetto al vero erede politico il triunvirato le proscrizioni ancora una volta Appiano ci dà il testo dell'editto delle proscrizioni le proscrizioni vuol dire le seguenti persone debbono essere uccise i beni confiscati eccetera la prova della loro morte è la testa decapitata che ci viene portata a Roma paese civilizzatissimo la prova era quella del fatto che un nemico politico fosse morto e in capitaliste della lista di Antonio c'è Cicerone Ottaviano sottoscrive Velleio racconta anche questo e dice furente Antonio mentre Antonio impazzava Ottaviano contro voglia dovette accettare dice Svetonio una volta che accettò fu il più furioso dei proscrittori Tito Livio che Augusto nella sua bonomia pericolosissima chiamava Pompeianus scrisse a un certo momento anche la storia di queste proscrizioni il libro 120 della sua enorme opera storica ma il libro dispiacque talmente ad Ottaviano che Livio smisse di scrivere certo non gli toccò quello che è capitato ad altri Cremuzio Cordo Sotto Tiberio la distruzione dell'opera l'eliminazione fisica dell'autore smisse di scrivere infatti lo sappiamo perché c'è un riassunto del libro 121 quello che viene subito dopo che si intitola Edito dopo la morte di Augusto cioè solo quando quello morì Livio ricominciò a scrivere grazie applausi grazie